Buona festa a tutti! Buona festa che significa? Buono il giorno di festa che avete e che avete tempo da dedicare alla famiglia al pranzo della festa che può essere domenica, sabato, quando stai insieme Incominciamo a fare queste belle preparazioni lunghe gli arrosti Avete presente gli arrosti che si facciamo la domenica? Quello! Adesso, ogni giorno di festa noi faremo una cosa lunga che ci vuole tanto tempo per farla Allora, bella sta così, eh? Allora, la cosa importante è questa Questa qua è una cosa che io amo, io la amo veramente Questa è la punta di petto di vitello da latte è una carne che costa veramente poco rispetto a tutti gli altri tagli del vitello da latte Si può trovare intorno dalle 8 alle 11-12 euro massimo al chilo Ed è fantastico a fare dai arrosti, perché guardate c'è tutto c'è la ciccia c'è il grassetto e questo quando si scioglie è una favola Adesso, è semplice poi qua c'ho tutti quanti degli aromi io normalmente devo dire la verità si fa soltanto con rosamarino, aglio e vino io oggi ho voluto aggiungere più cose ho voluto aggiungere un po' di salvia, dell'aglio e la cipolla e la carota e il sedano una cosa importante, questo è buono pure se lo fate affettare così dal macellaio a fettine così e lo fate in padella è stratosferico Saporito, buono cambiate sempre questa fettina e non si può più Adesso sentite musica, allora vado sale bello io questa qui fa salato io sono dell'idea che gli arrosti queste cose che vanno per tanto tempo in cottura devono essere insaporite prima o durante la cottura, non alla fine perché devono assorbire un po' tutti quanti i gusti quindi sale, pepe allora dato che oggi aspetto mia madre, mio fratello siamo in quattro, insomma, oggi quattro cinque una cosa importante questo sono due chili di carne all'incirca però poi perde, perde liquido allora normalmente è ancora più lunga perché vedete queste qua sono ricoste e cominciate a diventare ancora più lunga quindi si arrotola e si rega adesso vi faccio vedere anche se questo è piccolo mio pezzo questo li mettiamo dentro non perdiamo niente e faccio vedere come faccio io farei così metto anche mezz'ora metto qua dentro così poi arrotolo vedete come faccio così così perché è buonissimo quando poi si può affettare a mo' di porchetta poi prendo lo spago guardate faccio così guardate metto così faccio un cappietto va bene? un bel cappietto così guardate guardate qua eh e i cappietti li avete fatti nota ok vai vedete? si allarga e si stringe adesso li metto qua così così poi ma è buono sta buono faccio così tiro in questa maniera così vedete poi guardate guardate la mano così faccio così vedete? rifaccio eh da qua parto così e vado vedete? così e faccio così poi se non c'è tutto state un po' da perdere come fate fatelo fare subito al macellaio ok se non volete ok vado così un'altra volta ecco qua così questo qua è piccolino quindi ci mettiamo un attimo a farlo no? eccoci qua ci sarà qualche macellaio ci avrà qualcosa da ridì allora poi guarda è bello sto coltello zack appena l'avete lo spago lo taglia allora poi vado così questo ok adesso olio non esagerare però olio buono lo sapete grazie Giorgio Franci fa un olio stupendo toscano vai questo poi che facciamo? coccoliamo lo starottino mettiamoci tutte quante le erbette facile 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 semplice 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 ho fatto questo affasente muovete muovete ok perfetto carote sedano ok poi lo appoggio qua dentro bello carote cipolla vai così e un goccetto d'olio sopra allora adesso gli do una prima rosolata a 200 gradi ascoltatemi perché non vi faccio vedere tutto lo faccio vedere poi alla fine eh? allora rosolata a 200 gradi poi lo mettete a 160 sempre o ventilato o statico non cambia nulla e aggiungete del vino bianco deve essere sempre bello brodoso intorno non troppo due dita due dita ok? sono passate circa due ore e mezza adesso vado questa allora guarda io non posso dire come si chiama questa ricetta? questa ricetta si chiama petto alla fornara ma perché petto alla fornara? perché prima non tutti avevano il forno a casa per poter cuocere queste cose quindi che facevano? le 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 prendevano e le portavano al forno di chi faceva il pane e mettevano a cucinare questa carne guardate qua che spettacolo guardate guardate la morbidezza bello poi guardate quel bel fondo che c'è adesso allora normalmente normalmente questo non si fa nel senso non si taglia subito dopo averlo cotto prima si fa un po' raffreddare perché così la fetta non si rompe noi però lo sapete abbiamo questo nel tempo eh arrivato vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' guardate qua guardate che poesia guardate che poesia guardate 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 che cottura aspettate guardate guardate qui guardate che robetta guardate bella perché c'è il magro il il grassetto c'è tutto c'è mettiamo così la metto qui perché io adesso vi faccio vedere una cosa eh vediamo qui taglio un altro pezzetto così facciamo un bel piattino eccolo qua poi cucchiaio un po' di salsa che fai guardate qui allora se volete che cosa potete fare con questa salsa levate le erbette e la carota il sedano e il resto del brodo lo frullate e fate una bella salsa densa così lo servite quando lo portate a tavola adesso assaggiamo guarda qua che bontà ahhh 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 si scioglie in bocca veramente si scioglie in bocca quindi il nostro motto è semplice economico ma di qualità sempre ma appena io prima la scelta da sole mmm che bontà mmm guardate mmm mmm